questi pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi sul punto di battuta per il primo pallone del match c'è Giacomo Rosai a partiti allora Virtus Francavilla contro Catania non aggiornata del girone C di serie C subito in avanti il Catania con un tentativo che viene però raccolto da Pierno con Toria sempre sul Taranto in Coppa per 2 a 0 buona ma solo per un attimo la transizione di ingrosso Calapai affonda Calapai al centro Moro ci ha provato con lo stacco sul primo palo ha fatto vedere in questi primi sette minuti col destro o ingrosso col sinistro va ingrosso pallone sul secondo palo il tocco e poi la rete la rete la rete di Delvino proprio lui alla prima sortita offensiva il numero 15 ha raccolto un appoggio difesa del Catania che ha perso per due volte l'uomo ci ha pensato Fabio Delvino con il piattone Rosai a Clayton manovra avvolgente quella del Catania c'è a destra Calapai Clayton profondo occhio a Moro Moro non si gira Moro va sul piede sbagliato allora l'indietro per Calapai Fischi della nuova redorena va Calapai pallone sul secondo palo Russini chance capitale per il numero 20 del Catania che non la sfrutta era tutto regolare non c'è stata segnalazione da parte dell'assistente Catania invece per dare continuità alle due vittorie consecutive Nobile con qualche brivido poi prezioso pressato tutto regolare Russini va giù ancora Moro si libera Moro Moro idda in chiusura si prosegue Ceccarelli va giù calcio di rigore calcio di rigore per il Catania qui la Virtus Francavilla si è complicata i piani da sola appoggio troppo morbido di Nobile prezioso non ha liberato è stato tesimo del primo tempo Moro per il settimo gol stagionale Nobile per mantenere la porta inviolata il fisco dell'arbitro parte Moro 1-1 del Catania portiere a destra pallone a sinistra rispetto al visuale di Nobile Moro è una sentenza sette gol in campionato Virtus Francavilla palla da idda in grosso a spazio a sinistra spinto anche dal pubblico prende la traiettoria centrale in grosso c'è l'opzione Enian va in profondità Perez ancora in grosso in grosso per Perez in aria Perez 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 Sara il salvataggio poi ancora Perez va giù tutto buono per l'arbitro occasione capitale per l'età di impostare dietro per Delvino c'è Pierno Delvino preferisce però Miceli allora Cecio ha pressato alto da Rosaia non c'è fallo secondo l'arbitro occhio a Ceccarelli la botta esterno della rete che viene toccato dopo i cartelloni pubblicitari dal tempo che è il problema però di girarsi la pressione su Miceli il cross è preciso pallone messo fuori da Clayton ancora giocabile però Cecio ha la botta idda alto sulla traversa primavera chance di questo secondo tempo il suo invito per Delvino riparte già Russini siamo già dall'altra parte arriva come una furia Freddy Greco a sinistra Russini profondo Moro Moro in aria Moro Moro la botta Nobile distinto in calcio da sinistro Monteagudo, Ropolo, Clayton tutti ad attaccare praticamente la linea dell'area di rigore va Ceccarelli profondissimo Monteagudo di un soffio a lato il tentativo del numero 18 regolare allora Russotto prova lui a illuminare apre a destra preciso per Ceccarelli si è inserito Rosaia Ceccarelli lo fronteggia idda Ceccarelli in aria va sul destro pallone sul secondo palo Freddy Greco poi Pierno l'ha toccata lui Moro di testa il salvataggio di idda sulla linea clamorosa occasione per il Catania ancora una volta è stato anticipato in uscita alta Nobile è rimasto giù però Occhio ad Ecuban, uno dei nuovi entrati, accelera su Monteagudo, Ecuban c'è Ventola al centro, Ecuban l'assist, Ventola la parata di sala non c'è calcio di rigore ma occasione colossale Del vino per la Virtus al 28esimo Moro su rigore per il Catania Clayton prova lui a sistemare il pallone, non ci riesce allora Ventola il cross molto profondo verso Pierno, la sponda di Pierno, la rovesciata Mastropietro di un soffio al lato, al primo pallone giocato ha rischiato di confezionare il segno semi volete lo sotto, Sipos falloso sul Toscano ma c'è il vantaggio per la Virtus da Del vino per idda, idda prova lui allora a lanciare, occhio al limite, Ceccia alto sulla traversa, è scesa troppo bene per non ingolosire il numero 23 stremato però Ceccia alla bocca, è quasi pronto quindi a sancire la fine di Virtus Francavilla, Catania, il rinvio di sala, game over alla Nuova Redo Arena un gol per parte, un punto a testa tra Virtus Francavilla e Catania, tutto nel primo tempo a l'ultimo tempo